World of Doll, che oggi è una onlus, nasce dalla volontà di difendere, tutelare tutte le vittime della violenza, tutte le donne ma anche gli indifesi vittime di violenza. Questo progetto vuole sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche aiutare concretamente chi rimane, chi sopravvive. Donne sfregiate, acidate, bruciate vive che però oggi ci sono ancora, che hanno bisogno di lavorare, che hanno bisogno di ricominciare a vivere. World of Dolls le aiuta, le sostiene sia economicamente che psicologicamente. Soprattutto noi facciamo delle grandi manifestazioni di piazza, anche più piccole, dove coinvolgiamo imprenditori, amici, supporter, tutti quelli che vogliano dare una mano a questo tema importantissimo e vogliono davvero concretamente aiutare le donne. Grazie.